C'è una problematica nella città metelliana, ormai da lungo persistente e molto sentita dai cittadini. Parliamo della carenza dei bagni pubblici, che spesso mette in seria difficoltà i cavesi o anche visitatori provenienti da fuori città, colti da un'improvvisa impellenza, mentre sono in giro per il centro. Diramazione poco gradevole del problema sono anche i casi, più volte segnalati, di persone colte ad espletare bisogni fisiologici a cielo aperto. L'argomento è finito sotto i riflettori del consigliere comunale di Siamo Cavesi Raffaele Giordano, che nel corso del Question Time del Consiglio Comunale dello scorso 3 agosto ha formulato una specifica interrogazione. Quella dei bagni pubblici è sicuramente una problematica importante annosa, una società che si vuole definire civile, ovviamente si misura da quelli che sono i servizi che offre alla persona. Cava ha questa problematica da tanto tempo, la carenza, ci sono dei bagni pubblici ma sono o completamente abbandonati, come quello della Villa Falcone Borsellino, oppure quello che è presente a San Francesco nel sottopassaggio, che è diventato una vera e propria piantagione, chiuso, ci sono cresciute erbe e di tutto di più. Oppure ci sono dei bagni, come è la struttura pubblica di San Giovanni, che però non hanno indicazione, non hanno insegna, quindi ovviamente sono misconosciuti soprattutto alle persone che vengono fuori dalla città. È una problematica invece che è molto sentita dai cittadini, anche perché nelle ore particolarmente più calde, quando poi anche i bar sono chiusi, le persone si adoperano purtroppo tra i cespugli della Villa Falcone Borsellino. Atti che vanno sicuramente condannati, stigmatizzati, ma per colpa dell'assenza dei servizi igienici primari. Ho invitato l'amministrazione a rivedere un po' il piano su questa problematica e a portare delle correzioni, delle misure che possano risolvere questa problematica.